e allora buongiorno buongiorno a tutti e benvenuti iscrivetevi a questo canale mi raccomando se non siete già iscritti e condividete questo video con tutti i tifosi che conoscete devastandolo devastandolo di like guardatevi tutti i video fatti scaricate dal link in descrizione l'app di numero 10 ok che vi consiglio assolutamente e attivate il campanaccio perché domani ore 21 gran live serie a su tutto e tutti con il bruni giannatasio e garbin signori quindi ci vediamo poi domani sera ma andiamo al commento di questo derby e dopo lo scivolone preannunciato della roma in quel di cremona beh si profila un roma juventus che credo sarà la partita poi più interessante no più interessante del prossimo fine settimana ce ne saranno anche altri di belle perché non si parla di un fiorentina milan tutto da vedere neanche così scontato c'è comunque un napoli lazio dove mi permetterete mi permetterete spero in un bello scansone sarà giusto così un bello scansone e poi ci saranno altre però dopo la partita della roma di oggi roma juventus è una partita tutta da seguire e da commentare ma andiamo con il commento al derby andiamo con il commento al derby intanto un plauso intanto bisogna fare i complimenti a kiffi perché ha permesso lo svolgimento di un bel derby quantomeno fino al 3 a 2 poi la partita si è sostanzialmente chiusa un plauso a kiffi perché è stato un derby arbitrato quasi all'inglese un derby dove si è lasciato correre dove si è assecondata anche dove si è assecondato il ritmo della gara dove si sono permessi anche dei ribaltamenti di fronte quindi buon arbitraggio da parte di kiffi unico dubbio l'ultimo gol della juve il fuorigioco l'avrei interpretato in modo diverso perché i due giocatori mi pare che uno fosse bremer che entrano nell'azione prima che la palla arrivasse poi a rabiot mi sembrava una posizione attiva però vabbè su quello poi si può discutere ogni volta che vedo giocare la juve gioca e segna rabiot quindi voglio dire giusta coincidenza per il centrocampista più forte della serie a scelte scelte assolutamente nostre anche quest'oggi da parte di allegri che pur di non far giocare paredes fa giocare barene cea dall'inizio questa è pasta e foggia questa è pasta e foggia anche oggi ci ha calato pasta e foggia però della juve parleremo poi inizio dal toro allora io sono un grande fan di juric lo reputo uno dei migliori allenatori della nostra serie a credo che stia abbastanza cavando non voglio dire cavando il sangue dalle rape però ha una squadra in mano che poi vi dirò quel che penso dico solo che la scena quella di radonic sebbene il giocatore sia entrato male in campo molle con sta voglia di fare magari qualche giochetto scenata eccessiva però dai insomma togliere un giocatore platealmente così dopo dieci minuti che in campo con una squadra che comunque stava reggendo onorevolmente la partita per quelle che erano le sue opportunità magari erano qualcosa di evitabile ecco mettiamo così per mio gusto personale venendo al torino ripeto io mista squadra non è una squadra purtroppo che a livello di giocatori mi entusiasma infatti se ricordate quest'estate non eravamo andati particolarmente a premiare il mercato a gennaio non è che sia arrivato chissà cosa qualche colpetto interessante ma anche no cioè io vedo vedo la rosa vedo con tutto il rispetto i vari rodriguez che c'ha un'età gigi lo stesso miranciuk che alterna gare con gol bellissimi a due tre di fila che non sei neanche se in campo c'è lo stesso portiere milinkovic savage che anche oggi meglio lasciar perdere line t cioè è una squadra che non è che non è che mi piaccia molto onestamente non è che vedo a livello tecnico a livello di forza mi sembra un toro abbastanza dimesso ecco mettiamolo così forse era 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 più forte anche il toro dell'anno scorso probabilmente poi mancava vlasic per carità di dio però ecco per tecnica e livello non è che sia una squadra che mi faccia impazzire oggi sei stato anche complice come gioca la juve complice un po di impegno complice la partita sei anche stato in gara per buona parte dei 90 minuti fino al terzo gol sostanzialmente però il toro ecco non è che mi sento di chiedergli miracoli è una squadra che personalmente magari sbaglio io ma non è che mi faccia impazzire sulla juve cosa dire ma io ho visto comunque una juve che per spirito per interpretazione per impegno non è male cioè vedo comunque dei giocatori che in campo ci vanno quantomeno vogliosi a banchi abbastanza compatti e vi devo dire anche che fatta esclusa un po escluso un po l'inizio di stagione dove si cercava di spremere le cariatidi di introdurre i giochi quando quando c'è stata la svolta fagiolista hashtag svolta fagiolista cioè da quando si è iniziato a dare corpo all'introduzione un po di sti giovani qui alla fagioli da quando fagioli è diventato un giocatore molto importante per la juve poi di rimando sono stati anche inseriti altri è una squadra che la reputo sicuramente più vedibile più godibile di quella di inizio stagione che era veramente a terra poi per carità la stagione resta quella che resta con tutte le sue complicanze il girone di champions incommentabile che hai fatto il ritardo dalla capolista per carità di dio devo però dire che negli ultimi mesi questa new wave giovanile per quanto contenuta per quanto inserita comunque in una squadra che non va certo al massimo delle sue potenziali qualche questo rabbiottismo cavalcante qualche sintomo di gradevolezza negli ultimi mesi me lo anche me l'è anche andato a portare me l'è anche andato a portare certo la sensazione è sempre però quella di una squadra che dovrebbe essere un po più avvezza ai canoni di gioco moderni di oggi che poi ti fanno valorizzare la rosa che hai a disposizione perché se questa squadra qui facesse un po più di pressing e non una mera difesa posizionale un po più di pressing alto un po più di aggressione alta all'avversario conseguentemente un baricentro un po più alto se sapesse tenere un po di più la palla se sapesse orchestrare qualche triangolazione in fase di possesso qualche smarcamento no al posto di ridursi sempre magari alla ripartenza con cross dopo difesa posizionale credo io che da sta squadra potresti cavare molto di più potrì io mi immagino una juve banalmente anche con un 4 3 3 spallettiano e spalletti in panca c'hai di quei giocatori da cui puoi cavare molto molto di più di quanto stai facendo oggi secondo me è un po come una ferrari che non voglio dire che va gas però quasi c'è un po quella sensazione lì anche a livello di modulo adesso è rientrato poco valo anche visto abbastanza non male fisicamente fai un 3 4 2 1 cioè perché devi fare sto 3 5 1 1 che poi è un 5 3 1 1 che cazzo sembra che sembra che che poi è una roba che ti fa mettere ogni volta la pari con l'avversario no mentre tu dovresti scendere in campo facendo valere la tua superiorità tecnica facendo valere la tua qualità lo fai con un gioco siamo sempre alle solite insomma siamo sempre alle solite la new wave giovanilista il fagiolismo il rabbiottismo cavalcante anche il ritorno di chiesa negli ultimi mesi me l'hanno resa un po meno indigesta me l'hanno resa una squadra anche leggermente più godibile oggi quantomeno qualche qualche volontà di potenza l'hai vista è stato anche un derby tra due squadre che fanno della difesa loro forte va detto del 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 gioco abbastanza difensivo no oggi è stato anche un derby essendo tra due squadre questo tipo di impostazione anche abbastanza aperto non hai visto per 90 minuti la juve schiacciata in area di rigore nel primo tempo non mi era neanche dispiaciuta dal punto di vista del baricentro del tentativo di aggressione la sensazione però è sempre quella ripeto che c'hai tanta gente di valore un altro giovane che a me piace molto che farei giocare di più per esempio healing junior a me piace molto quello lì c'ha un fisico c'ha un fisico un'interpretazione da premier e che c'hai costic che anche oggi ha giocato bene chi ho visto bene ma ho visto bene ho visto bene costic sicuramente ha fatto una bella partita di maria non mi è piaciuto e vi dico anche di più a me questi giocatori qua che devi devi basarti sulla singola prestazione il gol di prestigio e devi stare lì a lodarli poi ti fanno una partita dove conseguentemente sono a terra quindi sparì il calcio di oggi ci vuole continuità calcio di oggi gioventù pressing intensità abbasso la qualità abbasso la come quelli che ci storitalizzavano pellegrini l'anno scorso che adesso lasciamo non voglio la qualità voglio 11 wall su che io personalmente quindi anche di maria oggi vabbè lo conosciamo alla sua età e via di scorrendo mi è piaciuto costic rabbiò non può non piacere e ho visto bene anche fagioli non male barrenecea un po timido ma era anche la sua partita bene danilo bene alexandro allegri altro pregio bimba di alexandro come noi diciamo una juve che a livello di situazionismo di contingenza neanche negativa stasera soprattutto a livello di atteggiamento però se vado a vedere le potenzialità quello che potresti fare con un po più di pressing con un po più di gioco con un po più di bari centro alto valorizzando soprattutto gli elementi offensivi a disposizione c'è un margine per me molto grande troppo grande ditemi cosa ne pensate un caro saluto